Il ristorante della costiera amalfitana che ha fatto impazzire star del calibro di Jennifer Lopez e David Beckham. La meta italiana più gettonata tra i VIP stranieri e non per l'estate 2021? Ancora una volta la costiera amalfitana. Da qualche anno. Ormai, la campagna è una delle mete più ambite dai personaggi famosi. Positano. Amalfi, Ravello, Nerano, sono solo alcuni dei paesini che incantano le celebriti. Alla ricerca di bellezza, tranquillità e serenità. Il fascino e l'unicità della costiera amalfitana fanno impazzire tutti, VIP compresi. Mare pulito e cristallino, sole e cibo gustoso sono solo alcuni degli ingredienti che rendono una vacanza dalle parti di Positano unica e magica. Per le celebriti italiane e internazionali così come per le persone comuni. Uno dei locali più alla moda della costiera amalfitana? Indubbiamente lo scoglio a Nerano. Tra i posti più incantevoli della costiera amalfitana la sua fama è dovuta ai suoi incredibili fondali. Alle grotte sottomarine di grande interesse e alla cucina tipica. In questo periodo sono tanti i personaggi noti, del mondo dello spettacolo ma anche della moda e del calcio. Che stanno scegliendo lo scoglio per una pausa pranzo e non solo. Si tratta di un hotel ristorante nato negli anni 50 e oggi noto in tutto il mondo. L'albergo è incantevole con le terrazze che guardano al mare mentre il ristorante propone i piatti della tradizione locale declinati in modo raffinato ed unico. A rendere speciale quest'angolo di paradiso, l'esclusivo Lido Balneare. Da queste parti sono passati nell'ultimo periodo diverse star. Gli ex calciatori David Beckine e Alessandro Del Piero, la modella Marica Pellegrinelli e la subretta Elisabetta Gregoraci. Ma hanno fatto tappa a Nerano, solo per gustare le prelibatezze dello scoglio. Pure Albano Carrisi con la figlia Jasmine e la coppia di Hollywood formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez. I prezzi dello scoglio di Nerano, decisamente non alla portata di tutti ma in linea con quello che viene proposto ai clienti. E questo ristorante esclusivo propone pietanze gustose e prelibate, realizzate con materie prime freschissime. Un lavoro fatto di passione e precisione che ha portato il locale ad essere uno dei più famosi in Italia e nel resto del mondo.